Sarai in grado di riconoscere la tua ragazza da bendato? Beh, non ci dovrebbero essere grandi problemi, spero Sì, vedremo Comunque oggi sarai messo a dura prova e mi raccomando, se non mi indovinerai dovrai subire delle penitenze orribili Cosa? Eh, non avevamo un'altra ragazza e quindi c'è Roberta per noi oggi Ciao a tutti No, devi parlare con una voce da femmina Ciao a tutti Perfetto Matti dovrà toccare diverse parti del nostro corpo da bendato e dovrà riconoscere la sua ninna Matti, la prima sfida sarà riconoscere la scella di ninna Cosa? Ma che schifo Beh, stai dicendo che la tua fidanzata non si lava? No, 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 assolutamente, assolutamente Eh, io soffro molto insolentico, quindi direi di cambiare parte del corpo No, non si può cambiare Ok, allora beh, mettetemi in fila e iniziamo, voglio che finisca subito questa sfida Andiamo Avanti con la prima persona a cui dovrò toccare la scella, però qualcuno mi deve aiutare perché non capisco dove devo indicare Ok Ma aspettate, credo proprio che la scella che ho toccato sia quella di minna Malina, ma se urli è ovvio che ti riconosco Ma non riesco, io non riesco a farmi toccare la scella e soffro troppo insolentico Che sono al pensiero del insolentico La falsa chiotta d'eccellenza, vabbè, però questo vuol dire che ho vinto il primo round No, 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 annulliamo tutto, ricominciamo da capo Ah, va bene Matti, per questa seconda sfida dovrai capire quale tra i nostri cinque baci femminili è quello della tua nina Quindi riceverò un bacio? Sì, un bacio da me e da tutte le altre ovviamente Sì, ma attento a non confondere il bacio di Roberta con il mio Mamma mia, che paura Ok, va bene Ehi, mi raccomando, sulla guancia, eh Soprattutto da parte di Roberta Anzi, Roberta, se vuoi, non me lo dare proprio il bacio tu Ok, questo è il primo bacio Mmm, no, non è come quello di Ninna Confermo che questo non è il bacio di Ninna No, 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 no Ok, non so per quale motivo, ma dalla risata Credo proprio che il bacio sia quello di Roberta Quindi non è quello di Ninna Andiamo avanti Mmm, questo mi sta mettendo in difficoltà Non lo so Sembra, sembra simile a quello di Ninna Però c'è qualcosa che non va Il bacio di Ninna è leggermente più veloce Non è così Mmm, no, non è quello di Ninna Mmm, ok, ok, ok Credo di non avere dubbi Questo è il bacio che riconosco Confermo L'ultimo bacio che mi è stato dato È quello di Ninna Giusto? No, Matti Non era il mio bacio Ma era quello di Dani Quindi mi stai dicendo Che ho confuso il tuo bacio con quello di Dani? E sai che ti dico Secondo me tu e Dani Vi siete già dati un bacio Visto che la riconosci molto bene No, no Devi dire la verità No, 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 aspettate un secondo Voi mi state facendo confondere Io non ho mai dato un bacio a Dani Capito, Ninna? Sei tu di unico amore Dani, vieni qua Non ci posso dire Vieni qua Vieni qua Vieni qua Vieni qua No, no, no Calmiamoci È stato un errore piccolino E poi non è neanche sicuro Che nella vita si siano dati un bacio Esatto Va bene, rimarrò comunque arrabbiata con Dani Ma no Dato che hai sbagliato Ora dovrai subire la tua penitenza Ah, pure Non basta il fatto che tu mi hai urlato nell'orecchio E non ci sento più da questo orecchio dentro Non ci sento più Sì, sì, lamentati dopo Guarda un po' Ma che sono quei? Mamma mia Ma che cosa dovresti fare con questi quantoni da box giganti? Devo darti un pugno No, 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 no No, no, no Ai, 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 ai Che botta Matti? Eh Come stai? Tutto bene? Insomma, diciamo che poteva andare meglio, eh Eh, sì Però poteva andare pure peggio in effetti non ti sta nemmeno bene questa fascia in testa no per niente ragazze dovete aiutare niente ad essere un po' meno arrabbiata ok? va bene ce l'abbiamo la prossima volta indovinala così risolviamo il problema è fondamentale per noi ragazze essere indovinate dal proprio ragazzo mi devo calmare e l'unico modo per farlo è attaccare le figurine sul nostro nuovo album e guardate un po' gli occhi di black shadow si illuminano al buio prendiamo un pacchetto e ho trovato la mia faccia me sono tutte le mie figurine beh ovvio sono la più bella non sono mica una traditrice come matti però ora attacchiamo la prima figurina perfetta comunque voi trovate l'album in idicola quindi andatelo subito a comprare ma si può sapere dove è finita nina dobbiamo finire la challenge effettivamente è vero nina non si vede già da un po' nina 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 sei qui che c'è ma tu sono buio non può stare qui si la vedi dov'è che stai facendo? sto attaccando le figurine all'album ma è troppo buio come fai? non voglio più giocare sono troppo arrabbiata con voi dai su non essere arrabbiata andiamo vediamo se in questa sfida matti indovinerà il profumo della nostra nina quindi devo indovinare il profumo? il profumo si ok non dovrebbero esserci problemi pronto? prontissimo no questo non l'ho mai sentito sicuramente non può essere il profumo di nina giusto? giusto giusto stai volta indovinato dai prossimo tanto qui non posso sbagliare io so perfettamente qual è il profumo di nina nanananana non mi fregate falsacchiotti lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale di nina e matti perché questo non è il profumo di nina ovviamente aspetta un attimo profumo dolce aspro e fortissimo che arriva direttamente nel mio cervello credo di riconoscere questo profumo è quello di nina ma non quello buono quello che odio è che si mette ogni volta che andiamo a cena fuori secondo me tu oggi vuoi essere lasciato matti scusa ma ti ho sempre detto che non mi è mai piaciuto questo profumo sai che ti dico? hai indovinato però ti farò fare la penitenza lo stesso no Roberta fai sentire l'ho di ascella no 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 di ascella allora iniziamo la prossima sfida adesso dovrai riconoscere ninna dai capelli riconoscere ninna dai capelli dai facile fammi ragionare un attimo capelli di ninna biondi liscissimi i fili d'oro non posso sbagliare come lui ok pronto? sì sono pronto ok questi sono i primi capelli sono molto lisci effettivamente potrebbero assomigliare a quelli di ninna però c'è qualcosa che non mi convince quelli di ninna sono un pochino più morbidi sì fatemi indovinare secondo me questi non sono i capelli di ninna e anzi vi dirò di più sono i capelli di dani ehi ehi ma che stai dicendo questi sono i miei capelli ma come fai a non riconoscerli? eh scusami giulì non l'ho fatto apposta i tuoi capelli sono bellissimi però grazie però mi sono davvero arrabbiata oggi si arrabbiano tutti con me è assurdo prossima persona vediamo un pochino beh sicuramente non possono essere i capelli di giulì di conseguenza ah l'ho capito voi credevate di fregarmi di nuovo basta l'ho capito che questa è la parrucca di roberta mamma mia comunque siete divertenti devo ammetterlo giusto? no non è giusto questi sono i miei capelli e poi sono molto più belli di quelli di roberta tu non capisci proprio niente ok lo devo ammettere i capelli non sono il mio forte però almeno ho indovinato che questi non sono i capelli di ninna prossima persona dai 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 ok eccoli qua aspettate un secondo li sentite anche voi? è la morbidezza di cui parlavo sto parlando dei fili d'oro no aspetta forse non sono questi mi sto sbagliando sembrano capelli normalissimi ora che ci penso o forse no sentite le punte si ok ci sono questi sono i capelli di ninna forse poteva farseli un po' meglio oggi però sono i capelli di ninna mi ha amato matti si mi hai riconosciuta io credevo che questi fossero i capelli di ninna hai capito che questi sono i capelli più belli che tu abbia mai toccato però l'avevo detto che non te li eri fatti benissimo ecco dovevo crederci di più io pensavo fossero quelli di ninna come faccio a stare con una persona che non riconosce nemmeno i miei capelli ci metto le ore la mattina a prepararli e tu neanche sai riconoscerli questi sono i tuoi fili d'oro eccoli finalmente li riconosco si ma li hai confusi con quelli di roberta no io non l'ho fatto apposta è che il video se lo so ha ragione ninna dovevi riconoscerli sai che ti dico io ti lascio tu non ti meriti di stare con me io devo trovare un altro che mi riconosca per quello che sono ehi ma non puoi lasciarmi solo per una challenge giusto tranquillo puoi stare con me adesso ma che stai facendo uffa perché nessuno mi vuole povera ninna i miei capelli si riconoscono ma certo sono super morbidi ma come è fatto a non capirlo non lo so ma io ormai non ci voglio più stare insieme ma no sì ho deciso ma pensa che sono maschi queste cose dei capelli non le capiscono è ovvio che non sono uguali a quelli di roberta cioè è ovvio sono stupidi esatto sì sì non capiscono niente non ti preoccupare entra tutto bene ehi i miei capelli sono bellissimi almeno credo li ho comprati ieri mio caro matti siamo arrivati alla sfida finale dovrai riconoscere l'unico il solo vero abbraccio della tua ninna posso dire la verità? questa voce è fastidiosissima primo abbraccio eccolo qui schiena capelli ok questo sicuramente non è l'abbraccio di ninna fuori uno subito il prossimo dai l'abbraccio di ninna è inconfondibile coraggio prossimo abbraccio ma non ho mai sentito una spalla così così grande oh mamma mia ok Roberta ho capito questa sicuramente non è l'abbraccio di ninna complimenti per i muscoli ok spero non ci sia di nuovo ok questa sicuramente non è Roberta non mi convince no non è nemmeno questo l'abbraccio di ninna è un pochino più forte mi stringe un po' di più questo era troppo leggero questa volta mi volete mettere in difficoltà eh vediamo un pochino questo mi sta mettendo in difficoltà ma no ho deciso non è nemmeno questo ditemi che ho indovinato è giusto hai indovinato perché ero io non o male dai questa volta finalmente non sbaglierò almeno una volta ecco qui pronti a questo abbraccio aspettate un secondo aspettate lo sento abbraccio stretto avvolgente carezza con la mano destra sulla mia spalla perfetto ci siamo questo è l'abbraccio di ninna la mano che fa così la riconosco lontano 10 chilometri no 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 è samantha ninna ninna non c'è è il prossimo l'abbraccio di ninna il mio era il primo abbraccio caro matti era il primo ma sai cosa è che questo sole che arriva qui mi ha mi ha accecato e quindi non ho visto bene dove mi stai portando l'abbraccio di ninna sono un caffè è colpa mia e adesso che cosa facciamo vabbè senti andiamoci a prendere un caffè visto che ci siamo si dai andiamo a fare una passeggiata anzi pure un gelato bravo questa challenge non dovete mai farla a casa ok ok